Grazie a tutti e grazie per questa importante introduzione. Io mi occupo di venture capital, cioè di investimenti in imprese ad alta tecnologia, imprese innovative. E ho iniziato a fare questo nel 2002, vi riporto a quegli anni, io avevo 29 anni allora, non mi sembra di essere invecchiato di molto, almeno così all'apparenza, quindi avevo 29 anni e sono stato folgorato sulla strada del venture capital. Ho detto sì, mi sembra che possa essere una cosa interessante, poi mi sono guardato un po' intorno, vi riporto a quegli anni lì, era appena scoppiata la bolla delle dot com, quindi era un momento molto difficile per tutto quello che era innovazione. C'era stata la crisi finanziaria dopo il 9-11, quindi dopo l'attacco alle torre gemelle, quindi era un momento estremamente tough, estremamente duro per riuscire a fare attività soprattutto di innovazione in imprese high tech. Fare questo in Italia era un'altra sfida indubbiamente enorme, però quando sono 29 anni probabilmente è tutto un po' più semplice, si prendono anche dei rischi senza farsi troppe domande. Comunque avevo sempre un po' di consapevolezza di rischiare a mettere tutta la mia carriera, tutto il mio futuro, tutte le mie enormi capacità all'interno di un settore del quale non vedevo forse perfettamente i contorni. Quindi sempre in quegli anni ho deciso anche di diversificare, di provare a darmi comunque una seconda chance, un futuro nel caso in cui l'attività di venture non sarebbe riuscita a portarmi i risultati che mi attendevo. Per questa ragione, per tutti questi dubbi, ho deciso di intraprendere un'altra carriera parallela, incontemporanea, che nel caso appunto il venture non fosse arrivato a quei risultati lì sarebbe riuscita a garantirmi un futuro. Per questa ragione ho iniziato a fare kitesurf, in questa foto vado molto orgoglioso perché è stato un scatto meraviglioso che una cara amica ha fatto, forse quasi irripetibile. Sono io è quello, non c'è Photoshop come ho scritto, quindi quello sono esattamente io e proprio in quegli anni lì ho iniziato questa carriera parallela e ho detto se tutto va male proverò a fare il professionista come kiteboarder intorno al mondo sperando di avere delle qualità in quella direzione lì. Poi mi sono detto mal che vada, perlomeno mi diverto, quindi proseguiamo in questa iniziativa che non è male. Torno al venture, quindi dicevo nel 2002 grandi preoccupazioni, grandi perplessità su quello che potrebbe essere le potenzialità del sistema Italia nel fare imprese innovative, avevo già allora che è lo stesso mito che c'è adesso degli Stati Uniti. Stati Uniti vuol dire la Silicon Valley, l'MIT, il TED, no? Siamo qui a parlare del TED che è una formula americana, quindi dall'altra parte dell'oceano, dall'altra parte dell'Atlantico, in particolare sulla parte Pacifica, c'era una, è in corso, era in corso ed è in corso un'enorme rivoluzione dal punto di vista delle nuove tecnologie sia nel digitale sia nelle biotecnologie. Allora ho detto, proviamo a misurare questa distanza che separa l'Italia dagli Stati Uniti, perché io faccio venture capital qui nel mio paese, nella mia country. Allora ho provato a misurarla, a cercare di darmi dei dati oggettivi, a vedere se stavo facendo la scelta giusta oppure se ero ancora in una condizione di rischio, di rischio estremo. Innanzitutto vi do un punto di riferimento che è quello centrale, in Italia siamo circa 60 milioni, in America sono poco più di 300 milioni, quindi il rapporto di popolazione è 1 a 5. A noi gli americani producono già un po' di più, quindi il rapporto di PIL, questa brutta parola che vuol dire il fatturato che fa un'internazione, è di 1 a 8. Quindi Schwarzenegger produce più di Jeppe Garnbardella della grande bellezza, quindi abbiamo già un difetto a livello produttivo. A livello di investimenti in venture capital, quindi gli investimenti che vanno a sostenere imprese innovative, se riuscissimo a mantenere lo stesso rapporto di popolazione, quindi quell'1 a 5, ci troveremmo un euro investito in Italia che va a sostenere imprese innovative, che corrisponde circa a 6 dollari al cambio attuale, 6 dollari rotti negli Stati Uniti. Quindi questa l'ho chiamata la parità aurea, se avessimo condizioni simili, popolazione contro popolazione, investimenti di venture capital, a sostegno di imprese, il rapporto dovrebbe essere questo. Quindi questo è il dato, 1 a 240 volte. Cioè negli Stati Uniti investono i soldi, i capitali che vanno a sostenere le imprese innovative, sono 240 volte gli investimenti che noi facciamo in Italia. Forse era meglio tornare a fare kitesurf e dedicarsi alla carriera di professionista in uno sport molto interessante che ti fa vivere il mare in un'altra dimensione. Quindi indubbiamente questo dato mi ha molto spaventato e mi sono molto preoccupato. Che cosa vuol dire a livello di denari? In Italia si fa fatica di investire ogni anno, nonostante si parla tantissimo di innovazione, si fa fatica di investire 100 milioni di euro ogni anno in imprese innovative, in tutti i settori, in tutte le start-up di cui probabilmente avete sentito parlare. Se fossimo negli Stati Uniti e mantenessimo lo stesso rapporto, lo stesso rapporto, dovremmo investire 4,5 miliardi di euro ogni anno. Circa un terzo della manovra che si sta discutendo adesso in Parlamento, la finanziaria che si sta discutendo adesso. Quindi il rapporto enorme, cioè lo spread, la differenza, i soldi che ci mancano per riuscire ad essere competitivi, come negli Stati Uniti sono 4,4 miliardi di euro, cioè le start-up italiane soffrono di mancanza di capitale per 4,4 miliardi di euro. Torno a dire, forse bisogna andare a fare kitesurf, visto che abbiamo delle bellissime coste, delle bellissime spiagge e c'è molto vento, forse quella può essere la strada. Ovviamente non mi sono arreso, se no non sarei qui a parlare, ma sarei su una spiaggia a divertirmi e sono andato avanti nella mia analisi. Uno dei punti fondamentali che sono andato ad analizzare è stato il rapporto dei ricercatori. Purtroppo anche qua soffriamo molto, per ogni ricercatore italiano ce ne sono 25 negli Stati Uniti. Vi ricordo sempre, il rapporto corretto dovrebbe essere 1 a 5, invece in America ci sono 25 volte i ricercatori che ci sono in Italia. Però c'è un unico dato che ci rende paragonabili agli Stati Uniti d'America, che è il benchmark di riferimento nel mio settore, nel settore innovativo in generale, che sono le pubblicazioni scientifiche. Siamo la seconda potenza continentale per produzione scientifica. I nostri ricercatori, per quanto non sono tanti, producono una quantità di ricerca scientifica, di papers, sulle grandi riviste internazionali, molto significativa e competitiva a livello mondiale. Questo è un dato, ed è un dato di partenza fondamentale per quello che è stata la mia scelta, di abbandonare le spiagge non completamente, solo nei weekend, e di rimanere invece a lavorare facendo attività di venture capital. Però abbiamo un altro difetto fondamentale, brevettiamo troppo poco, quindi il rapporto brevetti è 1 a 27. Quindi nonostante ci sia molta produzione scientifica, non siamo in grado di trasformare questa produzione scientifica in brevetti. I brevetti sono il perno centrale per costruire nuove imprese, soprattutto nelle biotecnologie, che è il mio campo di azione. Quindi questa è una delle grandi complessità. One billion mindset, che è un po' la storia, la sessione che stiamo presentando qui. Che cosa vuol dire? Dalla scienza, che è un punto di partenza solido che noi abbiamo, dobbiamo essere in grado di trasformare questa scienza in brevetti. I brevetti sono la base fondamentale per riuscire a costruire l'impresa. Intorno ai brevetti, intorno alla scienza, bisogna metterci management e capacità imprenditoriale. Poi arriva il venture capital, che ha bisogno di tutta quella forza finanziaria che oggi non abbiamo ancora nel nostro paese. Quindi per fare una battuta non riusciamo a fare start-up con solamente 80 euro. La start-up 80 euro non può funzionare. Fare innovazione è essere competitiva a livello globale, vuol dire andare a investire molti denari. Per poi creare imprese innovativa, questo circolo virtuoso può creare dei casi di successo. Qualcuno mi può dire, va bene, è una bella storia. Lo schema è semplice, difficile da fare. Intanto ce l'abbiamo fatta. Nel 2009, con il mio fondo di venture capital, che si chiamava Quantica, abbiamo investito in una società basata a Milano, che si occupava di biotecnologie, in particolare di ricerca farmacologica nel campo oncologico. Abbiamo investito nel 2009, quando questa società era in una fase di sperimentazione preclinica, abbiamo portato la nostra medicina, il nostro composto in una fase clinica, abbiamo interessato, guarda casa proprio gli Stati Uniti, proprio l'America, e un anno fa, nel 2013, abbiamo venduto questa tecnologia, questa start-up, questa company italiana, l'abbiamo venduta a una società quotata al Nasdaq, che è il mercato azionario americano, e l'abbiamo venduta per quasi mezzo miliardo di dollari, realizzando 12 volte l'investimento iniziale che abbiamo fatto. Quindi sì, si può fare, ci siamo riusciti. Questo è un punto fondamentale che dimostra che la qualità scientifica che c'è alla base della nostra tradizione, della nostra cultura, riesce a trasformarsi in ricchezza, in un valore molto significativo, tanto da interessare con gli stessi Stati Uniti che sono arrivati con le loro compri a comprare la nostra tecnologia. Vi posso garantire che per gli americani venire a comprare high tech in Italia è una cosa assolutamente challenging, anche per loro, da spiegare ai loro investitori e al loro mondo. EOS non è l'unico caso in Italia. Nell'ultimo anno e mezzo, parlo degli ultimi 18 mesi, quindi non parlo né degli anni 60 né di una storia vecchia, nell'ultimo anno e mezzo il biotech italiano, quindi le società ad alta tecnologia che sviluppano nuovi farmaci, hanno creato complessivamente un valore superiore ai 10 miliardi di dollari. Quindi questo è stato possibile non solo con la mia EOS, ma anche con altre società che vedete qui al nostro interno, che sono state o quotate, in questo slide, che sono state o quotate sul mercato azionario, oppure sono state comprate da altre società. Quindi il valore creato dalla ricerca made in Italy ha generato una ricchezza superiore ai 10 miliardi di dollari, questo nell'ultimo anno e mezzo. Quindi l'eccellenza ce l'abbiamo, il valore ce l'abbiamo, la ricerca scientifica c'è, dobbiamo riuscire progressivamente a trasformarle in un valore economico importante. Visto che non sono, ho deciso, anche perché sono passati un po' di anni, di non poter intraprendere la carriera di professionista del kiteboard, ho dovuto continuare necessariamente a fare investimenti e attività, ho continuato in questo filone e vi racconto la mia ultima avventura, che è questa riportata in questo lucido. Abbiamo creato una nuova start-up, una nuova spin-off, meglio definirlo così, dall'ospedale San Raffaele, ci occupiamo di terapia genica, terapia genica per la cura del cancro, questa è l'ultima sfida del settembre di quest'anno, quindi siamo appena partiti, il nostro obiettivo è creata la company, riuscire a sviluppare tramite questa terapia genica una cura per il cancro, riuscire ad andare in una fase clinica per la fine del 2016, inizio del 2017, creare, speriamo, una nuova storia che vada ad aggiungersi a quelle che abbiamo indicato prima. Insomma, in poche parole, per arrivare alla conclusione, sia che ti occupi di venture capital, sia che fai kitesurf o quando fai l'imprenditore, forse la morale di tutto è cercare di non tenere troppo i piedi per terra. Grazie. Grazie, Pierluigi. Grazie.